E si chiusa con la presentazione del nuovo lessico Molfettese italiano, la rassegna degli appuntamenti di animazione promossa dal Teatro dei Cipis di Molfetta. Il volume è la testimonianza di quanto moderne fossero le donne della nostra terra, dice Sara Allegretta, assessore alla cultura della città, sentita per noi da Luca Ciciriello. Si chiude la rassegna di animazione, di eventi culturali del Teatro dei Cipis. Allora, com'è andata? Dobbiamo dire di essere abbastanza soddisfatti. Intanto è una novità per il nostro territorio. Infatti queste iniziative sono nell'ambito del potenziamento delle attività presso l'Infopoint promosse dalla Regione Puglia e le nostre invece attività hanno il patrocinio dell'assessorato alla cultura del Comune di Molfetta. Che aria avete respirato? Che cosa avete visto negli occhi delle persone che hanno partecipato, che hanno preso parte ai vostri eventi? Il nostro pubblico è vasto. Va dai piccolissimi agli adulti ed anche le attività sono state dedicate sia ai più piccoli che ai più grandi. Abbiamo trovato interesse, abbiamo letto la meraviglia, si sono stupiti perché ci sono delle cose che magari non si sono mai organizzate prima di questa rassegna. Ci sarà un poi una seconda edizione? Noi ce l'auguriamo. Siamo sul territorio. Non ci mancano le idee e le proposte. Con il sostegno degli enti possiamo certamente portare avanti queste iniziative. Innanzitutto ricordiamo che cos'è il nuovo lessico molfettese italiano? Il nuovo lessico nasce nel 1963. Fu stampato all'epoca dalla tipografia Mezzina, da Mezzina Angelo Alfonso, titolare della tipografia, che collaborava e lavorava molto con Rosario Scardegno. La prima edizione fu stampata addirittura con carattere all'inotype. Difatti è stato ripreso poi da quella prima edizione e dopo poi è stato scanalizzato con le nuove tecnologie odierne per una seconda ristampa. In virtù delle richieste che ci sono state fatte nell'arco di quasi vent'anni, perché era quasi vent'anni che non avevamo più copie disponibili, abbiamo approfittato per stampare questa seconda edizione. Assessore, una riedizione importante per recuperare il valore, la storia, la cultura di Molfetta? Sì, questa è una serata importante. Oggi ricordare Rosario Scardegno è davvero un dovere. Donna eccezionale, di grande talento e donna che ha anticipato i tempi. In qualsiasi argomento si sia imbattuta, dalla morale all'etica, alla medicina, alla psicologia, alla didattica e alla didattica per i sordomuti. Una donna di cui veramente dobbiamo ricordare queste grandissime doti e la grande proiezione al futuro. Oggi lei lascia un messaggio che è attualissimo e modernissimo e al quale tutti dobbiamo ancora fare riferimento, ma è che è una donna ancora tutta da scoprire, una letteratura importantissima, la sua bibliografia molto ricca che merita davvero non solo l'appuntamento di questa sera, ma tanti, tanti altri appuntamenti in cui approfondire tutte le tematiche che ha sviluppato nel corso della sua lunga vita.